Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e oggi vi farò vedere come installare Teamspeak 3 su Linux Allora, cercate su Google Teamspeak e potete fare Download Now e scegliete Linux io la scelgo a 64 bit perché ho il sistema a 64 bit è consigliabile comunque scegliere 32 bit, tanto non cambia nulla ok, una volta fatto ciò, andate nella Home e fate scaricati e avrete questo file me lo portate sul desktop aprite il terminale e scrivete sudo-i premete invio, mettete la password del computer poi prendete questo file, lo trascinate dentro premete invio, no niente, scrivete SH, spazio lo trascinate dentro, premete invio ecco, premete sempre invio o anche la freccia in giù, volendo ecco, premete il tasto Q poi premerete il tasto Y premete invio fatto e ora avrete installato Teamspeak chiudiamo il terminale ed ecco qua fate connect per esempio e siete dentro allora settings option fate design e voi ce l'avrete così solo che farà un po' schifo quindi andando in option design potrete mettere quello che vi serve ecco, vedete design mettete fujo ok e poi qua avete tutte le vostre informazioni impostazioni fate settings setup wizard e vi impostate dentro tutte le cose perfetto spero che questo video vi sia stato utile e al prossimo grazie a tutti